Babbo Natale ci ha lasciato congedandosi dai bambini romani con una parata da circo, allontanandosi in auto su una biga e a cavallo tra elefanti e cammelli e una improvvisata processione di remaggi a passeggio per le strade. Babbo Natale se n'è andato riempendo per l'ultima volta la città con la sua colorita e calda presenza prima dell'ultima tappa a piazza Navona, dove i bambini romani si erano dati appuntamento per salutarlo. Dite Natale a Roma, infatti, e direte piazza Navona. Comunque Babbo Natale se n'è andato incontrando sulla sua strada la Befana e la vecchia nonnina se lo è trascinato via con gli ultimi residui di un anno, con gli ultimi entusiasmi. Invecchieremo con loro sino al prossimo appuntamento. Al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.